Cogli i frutti dall'albero proibito, va Pietro, va! Cogli i frutti dall'albero proibito, va! Cogli i frutti dall'albero proibito! Pietro! Pietro! How are you? Come stai? Good! Come, Pietro, come! Oh, io le pinne! Come, 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 come! No, Pietro! Pietro! Vi viene in paradise! Pietro, ti trust me! Ti vedi di me! No! Le pinne le vai prendere tu! Pietro, ti trust me! No! Ok, Pietro! Ok! Vado da solo! I've gone alone to take the fruit! Vado da solo a prenderi fruit! Vado da solo a prenderi fruit! 9, 10, 11, 12... fellows! Pietro, ti trust me! Pietro, ti trust me! Pietro, ti trust me! Oh, loлично! Pietro, ti trust me! Pietro, ti trust me! Sì, è sempre il giorno! Ampe di questo! Questo! Guarda questo! Se stai a rubare il mio ultimo mila ladro, proibito! Titto! Titto! Il nostro segretario è il nostro segretario! Sì! Vieni! Ancora abbiamo già Piedrò, ma Piedrò! e non è giusto non è giusto e non è giusto e non è giusto e non è giusto e non è giusto